Partito! Non da prendere il piatto, non da prendere il piatto! Fuori dai! Bello! Mi libra! Mi bravo il ginocchio! Mi bravo il ginocchio! Gira fuori! Mi bravo il ginocchio! Esci con quel ginocchio! Esci con quel ginocchio! Buona volta, aspetta un momento! Esci con quel ginocchio, buona! Tesanta e stabilizza bene prima! Metti ganci e strulla! Agganza e strulla! Vai Davide! Ho vinto! Vai Davide! Dai Davide! Shhh! 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 Avete preso quel ginocchio? Dai Davide! Occhio a quei braccio! Occhio a quei braccio! Occhio a quei braccio! Occhio a quei braccio! Muoviti! 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 Alza! Ok, va a quei pochi secondi! Gira di su! Alza di su! Stop! Occhio! Uff! Fuuuff!